Antonio Luciani si conferma sindaco del comune di Francavilla al Mare. Per il primo cittadino uscente si è trattato di un vero e proprio trionfo, andando al di sopra del 65% delle preferenze. Appoggiato dal Partito Democratico e da altre quattro liste civiche, Luciani ha lasciato le briciole ai tre sfidanti. Il candidato del centrodestra, Pantaleone Alessandro Mantini, supera appena il 15% e precede di quasi due punti Livio Sarchese del Movimento 5 Stelle. Ancora più distaccato, appena al di sotto del 6%, Stefano Di Renzo, sostenuto da Abruzzo Civico e altre due liste. Luciani può così proseguire il suo percorso amministrativo iniziato cinque anni fa. Questo il commento del confermato sindaco e dell'assessore regionale Silvio Paolucci. Noi accogliamo tutti a braccia aperte perché non siamo di quelli che vogliono fare i presuntuosi, ma anzi c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Siamo qui, siamo disponibili al dialogo, lo siamo sempre stati. Ultimissima, Luciani, a chi dedica questa vittoria? Beh, alla mia famiglia principalmente che mi sopporta da cinque anni e mi dovrà sopportare per altri cinque. I miei colleghi di lavoro che dovranno fare a meno della mia presenza quotidiana e soprattutto uno splendido gruppo che si è creato in questi cinque anni, che si è cresciuto con queste ultime elezioni. Quindi veramente insieme siamo Francavilla che è il nostro slogan. È un risultato che viaggia intorno al 70% e io credo che abbia premato un ottimo lavoro svolto dal sindaco Luciani e dalla sua squadra in questi cinque anni. A questo punto la domanda è d'obbligo, ne parlavamo anche con altri ospiti che abbiamo ascoltato prima. È stato fondamentale ricucire quella frattura che si era creata qualche tempo fa qui a Francavilla. È stato molto importante quel passaggio, ma certamente è stato determinante il lavoro svolto da Luciani in questi cinque anni. Onore al merito, no? Grazie.